Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, benvenuti in questo nuovo video dove raccogliamo le più importanti novità accadute in questa ultima settimana e come sempre buon riposo e buona domenica. Vorrei porre la vostra attenzione per prima sul nuovo portale della mobilità elettrica elettronauti.it che racchiude tutte queste novità giorno per giorno. In descrizione troverete tutti i link tramite i quali potrete approfondire la vostra news preferita. Ma partiamo alla svelta perché oggi abbiamo veramente tanto da dire e partiamo dalla Germania. Anzi, fermi un attimo, ma siete iscritti al canale YouTube? No, perché è noto che in tantissimi di voi non sono ancora iscritti. Su, fatemi questo regalo, poi è gratis e non si paga neanche, quindi perché non farlo? La bella ed imponente Lotus Elettre è stata avvistata per la prima volta sulla pista del Nürburgring. Partirà da 100.000 euro, un prezzo direi accessibile, data la sua natura da super SUV sportiva. Non sono ironico, ragazzi, diciamo che non costa poi moltissimo per le prestazioni che sono state promesse. Avrà infatti 600 cavalli, sponderà il muro dai 100 km orari in soli 3 secondi ed avrà una velocità massima di 257 km orari autolimitati per sicurezza. Lotus ha deciso di entrare nel mercato elettrico con questo mostro, una scelta molto particolare, dato che non è propriamente una casa automobilistica che produce SUV e tantomeno auto elettriche, ma da qualche parte si doveva pur cominciare. E sembra proprio che sia intenzionata a spaccare. Al Nürburgring poi c'era anche una nuova versione di IONIQ 5N, con un nuovo paraurti anteriore e qualche modifica ai fari anteriori. Questa versione, ossia la N, è la versione diciamo più sportiva della IONIQ, decisamente interessante, perché unisce la comodità e la tecnologia già presenti nel modello, tra virgolette, tranquillo, alla sportività pura, anche se si tratta comunque di un veicolo dalle dimensioni e peso decisamente importanti. Saltiamo ora da Mercedes e rimaniamo quindi sempre in Germania, dove la casa della stella ha avviato la produzione del nuovo IONIQ. Lo Special Truck avrà due motori elettrici in grado di erogare 440 CV oppure 540 di picco, un pacco batteria da circa 340 kWh con architettura a 400 V, in grado di essere ricaricato fino a 160 kW tramite lo standard CCS2 Combo. E ad essere sincero non vedo l'ora di capire quale sarà la sua vera autonomia e non vedo l'ora anche di provarlo come già ho fatto con i vari modelli di Scania. E nel caso in cui le batterie non saranno gli unici vettori del futuro, BMW ha avviato la produzione del suo modello di IX5 ad idrogeno. Inizialmente ne verranno prodotte 100, quindi diciamo che più una produzione è un test. Avranno un serbatoio da circa 6 kg e garantiranno circa 600 km di autonomia. E sapete bene ragazzi che l'idrogeno potrebbe essere una valida alternativa ecologica al vettore batterie, ma con i rincari sull'energia elettrica che ci aspettano, trasformare l'energia una seconda volta per creare l'idrogeno è quantomeno controproducente. L'efficienza delle fuel cell al momento sono ancora migliorabili e anche il processo di elettrolisi deve essere migliorato, perché se oggi un kg di idrogeno costa 13 euro, chissà quanto costerà questo inverno. E continuiamo, parliamo poi di Porsche Taycan che ha conquistato un altro record. Questa volta la sportiva elettrica tedesca ha attraversato 14 paesi europei in meno di 24 ore. E uno si domanda, ma come diavolo avrà fatto? Quale pazio squinternato ha messo in opera un test di questo genere? Beh ovviamente tutto è stato calcolato nei minimi dettagli ed è l'ennesima trovata pubblicitaria, ma devo ammettere che Taycan rimane sicuramente un prodotto interessante, soprattutto per l'architettura ad 800 volt che le permette di ricaricarsi molto velocemente. E giusto per spiegarvi meglio come è andata, il percorso è stato studiato e programmato ovviamente nei minimi termini, per passare da più strade possibili con il limite di velocità più alto, in maniera tale da portare a termine il Guinness senza troppi intoppi. E sempre Porsche sembra si stia basando su Taycan per sviluppare una versione completamente elettrica di Panamera. Avrà un passo di 3,1 metri e sarà lunga 5,2. Il nome in codice è, dentro gli studi Porsche, per quest'auto è K1. Monterà due motori elettrici, architettura ad 800 volt ovviamente, ed utilizzerà la piattaforma SSP di gruppo Volkswagen, verrà presentata verso fine 2023. E attenzione perché il primo ottobre comincia il Porsche Festival in Franciacorta, in provincia di Brescia. Due giorni pieni dove i membri del club Porsche potranno provare le auto in pista e vedere anche qualche competizione. Io ci sarò e farò un video sull'evento ed ovviamente un articolo su elettronauti.it. Ma restiamo nel gruppo, parliamo questa volta di Skoda, che ha confermato il nuovo Skoda Vision 7S. Presentato qualche giorno fa, ha un pacco batteria da 89 kWh su piattaforma MEB. Ricarica fino a 200 kW di potenza ed ha 600 km di autonomia in ciclo VLTP. Utilizzerà il nuovo logo Skoda e avrà 6 o 7 posti su 3 file. Molto interessante e sicuramente da tenere d'occhio. E 3 file di sedili proprio come il Luxgen N7, un SUV completamente elettrico prodotto da Foxconn, lungo 4,6 metri ispirato al concept model C. E sicuramente monterà celle Foxconn, ma non sappiamo altro al momento. Vi terremo aggiornati su elettronauti.it. E sempre parlando di batterie, altre celle molto interessanti sono quelle di S-Volt, che ha sviluppato delle batterie allo stato solido che sembrano star passando tutti i test con ottimi risultati. Avranno una densità sbalorditiva di 375 Wh al kg, molto meglio delle attuali quindi. E su un'auto media potrebbero portare l'autonomia a circa 1000 km. Su berline magari un po' più grandi potrebbero anche arrivare a 1500 o più. Le due aziende coinvolte nel progetto, Vuxi e S-Volt, hanno già depositato più di 180 brevetti. Speriamo che arrivino sul mercato molto presto. E oggi ancora non avevamo parlato di Tesla e abbiamo delle brutte notizie. Al momento c'è un po' di incertezza attorno alla possibilità che Model Y e RVD rientri nella legge 104. E spero presto di avere notizie più precise, ma se siete in procinto di acquistarla proprio con la 104, attendete ancora qualche giorno o chiedete informazioni all'advisor, perché alcune informazioni che ci arrivano sono negative ed altre invece positive. Detto questo, c'è un'altra notizia negativa. Elon Musk ha aumentato in maniera spropositata il costo del pacchetto autopilot FSD in America, facendolo arrivare a costare pensate 15.000 dollari. Una cifra esorbitante e decisamente impopolare e, a parer mio, veramente troppo, ma troppo alta. Avrà successo ugualmente? E nel frattempo in Italia cresce il malcontento di tanti utenti Tesla, che nel momento di vendere la propria Tesla Model 3, magari in favore della nuova Model Y, si sono ricordati di aver pagato anche oltre 8.000 euro appunto per FSD, che ahimè però non è mai stato attivato in Europa. Vi pare corretto? E nel frattempo che il bravo Elon Musk ci pesa un po' su, sembra aver confermato che FSD arriverà entro la fine del 2023 anche in Europa. Com'è che si diceva? Parole, parole, parole. E sapete chi usa poche parole e molti fatti invece? Beh, ovviamente Carrozzeria Musesti, l'unico e l'inimitabile carrozzera ufficiale della provincia di Brescia, che vi può assicurare di non perdere la garanzia sulle vostre lavorazioni e ripristinare le vostre auto elettriche e non senza problemi. Li conosco mai da parecchio tempo e mi sono sempre affidato a loro per tutti i piccoli problemi riscontrati sulla mia auto, perché non ne ho avuti di grandi, altrimenti comunque sarei andato lì. Sono molto efficienti, economici e cortesi, una combinazione che normalmente è difficile da trovare. Fate pure riferimento a loro per qualsiasi problema. Lo sapranno risolvere definitivamente e dite che vi mando io, così avrete anche un trattamento speciale. A proposito di speciale, guardate che bella questa AMI. Si chiama Tonic e si posiziona tra le più accessoriate. È caratterizzata dai colori cali e giallo e ha dettagli sui passaruota e le barre sul tetto, inclusi poi anche il portatelefono, il re di portaoggetto nelle portiere, rete per lo zaino, tappetini ed anche il connect box per utilizzare l'app. Questa versione parte da 8.900 euro, incentivi esclusi. E a proposito di micromobilità, ragazzi, la settimana scorsa durante l'evento Sinestesia tra le arti, ideato da Iga Mussaro e Cristina Servini, ho potuto incontrare Umberto Palermo, noto designer toninese, responsabile del progetto Mole Urbana. Durante la sua conferenza stampa abbiamo avuto modo di discutere sulla necessità di un modello sicuro, versatile ed economico. E forse le ruote si muovono nella direzione giusta. E a proposito di cose fighe e che costano poco, e in questo caso proprio niente, vi faccio vedere questo treno, si chiama Infinite Train. È in Australia ed in pratica è un treno completamente elettrico che non ha mai bisogno di fermarsi per ricaricare le batterie. Impossibile? E invece no! Vi spiego come funziona, eh. Quando è in miniera, vengono caricate sulle sue carrozze cargo 34.000 tonnellate di ferro. Il treno le porta al deposito che dista 70 km dalla miniera. Ed essendo tutta in discesa, non consuma nulla. Anzi, si ricarica e quando torna a vuoto in miniera, utilizza meno energia. E se questa non è una cosa geniale, non saprei, ragazzi, eh. E sapete chi è stato tanto geniale? La DD Ford, che ha per la sua azienda registrato un estremo aumento di vendite di auto elettriche. Oltre il 300%. Sarà forse grazie all'annuncio dell'aumento dei prezzi previsto tra qualche settimana proprio da Ford? Ma andiamo avanti. Guardate questi mega SUV di Mengashi. Si chiamano M-Terrain e M-Terrain Sport. Verranno commercializzati entro fine 2023 ed hanno oltre 1000 cavalli e 16.000 newton metro di coppia. Entrambi passano da 0 a 100 km orari in circa 4 secondi. Hanno un pacco batteria da 140 kWh e 500 km di autonomia reale in qualsiasi situazione. Il cambio ha due velocità ed ha anche tre differenziali per permettere ottime doti da fuoristrada. In futuro arriverà anche la guida autonoma di livello 3. Toyota, il ministero cinese dei trasporti, si è lasciato scappare queste immagini che rappresentano la nuova BZ3. Una berlina completamente elettrica basata sulla piattaforma AT-NGAI che monta pacchi batterie da 61 e 82 kWh LFP in grado di arrivare fino a 700 km di autonomia. Le motorizzazioni ancora non si conoscono ma probabilmente saranno come al solito standard range e long range. Vedremo come sempre tutto su elettronauti.it. E della serie News Raffica, Ariel sta lavorando ad una hypercar completamente elettrica in grado di erogare fino a 1180 cavalli. I motori elettrici sono due, entrambi di equip make e combinati permettono di passare da 0 a 100 km orari in 2,1 secondi. La velocità massima è di 250 km orari, pesa circa 1550 kg, quindi non tanto. La batteria sarà da 62 kWh ed in futuro sarà previsto un range extender turbo da 35 kW. E questa è una auto, una bici o una moto? Ditemi voi ragazzi che cos'è, però si chiama Snap. Ha dei pedali ed un motore elettrico da 1 kW per la pedalata assistita. Pesa 150 kg, ha 11 marce e parte da 7.000 euro. Sembrerebbe anche essere ideata per i postini, come le Amicargo, direi. Interessante. Brembo ha affermato di star sviluppando delle pinze apposite per auto elettriche, che saranno smart elettriche e collegate singolarmente alle centraline in auto, che permetteranno di rendere più efficiente e sicura la frenata in varie situazioni, combinando anche la frenata rigenerativa del motore elettrico. Questo sistema si chiamerà Sensify. E chiudiamo con questo proprietario di Rivan R1T, che a causa della lunga coda al molo ha deciso di portare la sua barca in acqua tirandola con il suo pick-up elettrico, appunto Rivian. Tutto normale, ragazzi? Rivan R1T può guadare fino a 110 cm, speriamo che però sia stato in un lago, perché se per caso fosse stato mare, boh, non so cosa potrebbe fare il sale e la salsedina in generale a quelle plastiche. E anche oggi, ragazzi, vi ho tenuto compagnia per un bel po'. Vi ringrazio moltissimo per aver guardato questo video ed aver sopportato la mia voce per tutto il tempo necessario da riempirvi di news il vostro cervello. E se ancora non siete sazi, mi raccomando, andate a dare un'occhiata al portale, che con grandissimo impegno stiamo portando avanti per voi. E magari, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale ed accendete la campanellina. Ciao, elettronauti, buona domenica e a presto! Vorrei porre, però, la vostra attenzione per prima sul nuovo portale della mobilità. Lo Special Truck avrà due motori elettrici in grado di erogare 400 K... Faffacuore! Toyota, il ministero cin... Le motorizzazioni ancora non si conoscono, ma probabilmente saranno come al solido... come al solido, sì, saranno come al solido... Ho un po' sete, in effetti, eh! La batteria sarà da 62 kWh... KWh... Faffac82... Faffac85... Faffac85... Grazie.